Ciao a tutti! Se non avete mai provato a friggere la spremuta di mucca, allora non potete fare a meno di provare. Ok, prendiamo una pentola e versiamo dentro la spremuta. Poi ricaviamo la buccia della palla acida, l'essenza di sapore, estraiamo e buttiamo dentro. E poi mescoliamo per bene tutto. Ora copriamo e passiamo ai proccini sfortunati. Aromatizziamo le punte d'alito fresco e con questo trucco trasportiamo le palline gialle. Seppelliamola di cristalli dolci, poi riprendiamo e tagliamo la palla aspra. E facciamo uscire fuori i suoi succhi. Mescoliamo per unire tutto e uniamo i due composti. fino ad ottenere una consistenza densa. Poi trasferiamo nella formina e sigilliamo con la carta. Dopo un passaggio al polo nord, tiriamo fuori il nostro sformatino e tagliamolo così a rittangolini. Poi facciamo un passaggio nel margialo e subito un altro passaggio nella padella. Gittiamo, giriamo, così facciamo. Negli cristalli dolci inzuppiamo e otteniamo un dolce squisito. Bastoncini dorati con la crema morbida all'interno. Mangiate ancora caldi, buon appetito!